il ladro di risate nella città di irisolandia la gente era sempre contenta i bebè non piangevano i bambini non si lagnavano e quando gli adulti restavano bloccati nel traffico non imprecavano tutti sorridevano perché avevano capito che per essere felici bisogna godersi la vita senza arrabbiarsi per le sciocchezze il primo giorno dell'anno il sindaco faceva un discorso in piazza carissimi impegniamoci a mantenere l'allegria e saremo sempre la cittadina più felice del mondo e concludeva con una fragorosa risata che contagiava tutti un giorno un ladro molto meschino arrivò a risolandia lo chiamavano oibo perché le sue vittime appena si accorgevano di essere state derubate urlavano oibo mi hanno derubato oibo rubava sempre le cose più preziose monete d'oro diamanti orologi anelli di rubini collane di smeraldi quadri di valore statue antiche e vasi d'argento aspettava poi di sentire oibo mi hanno derubato ed era finalmente soddisfatto la cosa che preferiva infatti erano i lamenti delle vittime più che gli oggetti rubati a risolandia cominciò a rubare gioielli e denaro ma gli abitanti non piangevano esclamando oibo dopo un attimo di silenzio facevano una risatina e dicevano mi hanno derubato ma non voglio rovinarmi la giornata per questo e subito erano allegri e contenti come prima questa storia a oibo non piaceva per nulla si chiedeva ma perché non urlano oibo perché non piangono decise allora di studiare gli abitanti di quella strana città ho capito ho capito esultò un giorno devo rubare le risate quando avrò rubato tutte le loro risate anche a risolandia saranno tristi e arrabbiati il ladro era deciso a mettere in pratica il suo terribile progetto ma c'era un piccolo problema non sapeva come fare le risate non si tengono al sicuro in una cassaforte o in cantina e nemmeno in banca le risate si tengono nel cuore un ladro non può rubarle con il cacciavite il martello il piede di porco e allora? pensa e ripensa a oibo venne in mente una sua vecchia amica era una scienziata non soltanto molto intelligente ma anche un po' strega e cattiva fino al midollo oibo decise di telefonarle frau schnitz ho una missione cattivissima da compiere vuoi aiutarmi? se si tratta di fera cattiferia conta su di me dobbiamo rubare la cosa più preziosa del mondo ma tu hai già rubato lingotti d'oro? ceielli? quadri? diamanti? soldi? cosa c'è di ancora più prezioso? ci sono le risate se rubiamo quelle tutti saranno tristi la scienziata si entusiasmò all'istante che idea stupenda mi metto subito alla foro per inventare una macchina degna del mio genio e così frau schnitz si ritirò nel suo laboratorio per giorni con i suoi attrezzi e i suoi libri antichi dalle finestre socchiose uscivano fumi colorati odori raccapriccianti e rumori striduli la strega lavorò sodo finché un giorno riuscì a costruire una macchina per catturare le risate l'apparecchio aveva un aspetto alquanto bizzarro era ricoperto di lucine colorate intermittenti grossi imbuti bottoni di varie dimensioni o forme un'antenna tutta storta e una leva di accensione con un pomello luccicante da vedere era quasi buffa ma era uno strumento molto pericoloso il ladro e la scienziata portarono la macchina mangia risate in piazza e subito azionarono la leva da quel momento non si sentirono più né ah 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 né uh 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 né oh 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 appena qualcuno cominciava a ridere la macchina risucchiava le sue risate negli imbuti e il malcapitato si trovava a un tratto senza voce non riusciva più neppure a sorridere quel terribile marchigegno funzionava davvero gli abitanti di risolandia cominciarono a sentirsi strani non erano più felici adesso si arrabbiavano per nulla litigavano e si insultavano andavano al lavoro contro voglia insomma erano tristi e nervosi tutto il giorno tanto che perfino i loro sogni erano diventati incubi il ladro e la strega scienziata invece erano proprio contenti ce l'abbiamo fatta abbiamo agrafato un sacco di risate finalmente siamo riusciti a rendere tristi queste persone il povero sindaco era il più sconsolato di tutti perché non sapeva come aiutare i suoi cittadini se ne stava dalla mattina alla sera alla finestra a piangere guardando i due furfanti che rubavano la gioia poi un giorno all'improvviso si ricordò di aver letto in un vecchio libro che il cuore dei bambini è il luogo dove ci sono più risate al mondo il sindaco allora pensò che forse proprio i bimbi avrebbero potuto aiutarlo andò subito alla scuola e fece un bel discorso cari bambini siamo tutti molto tristi so che anche voi non riuscite più a ridere e a divertirvi ma dobbiamo usare ogni forza che ci resta per ritrovare la gioia ho fiducia in voi nel cuore avete tante risate e troverete il modo di combattere quei due furfanti una bambina molto sveglia e intelligente di nome Renata disse hai ragione signor sindaco noi bambini abbiamo così tante risate che se quella macchina le mangia tutte fa di sicuro indigestione che cosa ho in mente? le domandò il sindaco ho un piano disse Renata andiamo sulla piazza proprio vicino a quella macchinaccia e ridiamo fortissimo ma dobbiamo essere tanti signor sindaco ci devi aiutare a radunare tutti i bambini il sindaco convocò tutti i bimbi che abitavano a Risolandia e Renata spiegò loro il piano d'attacco amici dobbiamo avvicinarci il più possibile a quel mostro e cominciare a ridere tutti insieme tantissimo e fortissimo più forte che possiamo le nostre risate manderanno la macchina in tilt i bambini dunque arrivarono di soppiatto vicino ai due malviventi e cominciarono a ridere a più non posso le luci della macchina presero a funzionare a scatti l'antenna vibrava e dagli imbuti uscivano sbuffi di fumo il ladro e la scienziata non capivano cosa stesse succedendo schiacciavano bottoni tiravano leve ma era inutile la macchina mangia risate e si era rotta d'un tratto dagli imbuti cominciarono a uscire risate una dopo l'altra tutte quelle che la macchina si era mangiato fino a quel giorno l'aria si riempì di allegria quelle risate erano tantissime e soprattutto erano contagiose dopo i bambini ricominciarono a ridere anche gli uomini e le donne i giovani e i vecchi i ricchi e i poveri i biondi e i mori gli alti e i bassi i magri e i cicciotti e anche il sindaco naturalmente ognuno ritrovò la propria gioia e sapete la cosa più curiosa di tutte qual è? che anche il ladro e la scienziata furono contagiati cominciarono a sghignazzare a crepapelle e si sentirono felici come non lo erano mai stati erano così contenti che decisero di abitare a Risolandia per sempre e non rubarono più nulla non avevano più bisogno di far soffrire nessuno pensate che ancora oggi quando Oibo e Frau Schnitz si lanciano in una delle loro grasse interminabili risate nessuno riesce a resistere e l'aria si riempie di fragorosi ah 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 Ahhhh! Ahahaha! Ahahahahahahaha! Ahahahahaha! Ahahahahaha!